Il missile terra-aria di Nitriansky per portare a casa la terza vittoria consecutiva e adesso arrivano i rinforzi dal mercato e dall'infermeria. L'Avellino, che questa mattina dopo il blitz a Como, ha ripreso la preparazione in vista della sfida in programma martedì contro la Virtus Entella, si gode il momento d'oro e continua a lavorare sotto traccia in vista della riapertura delle liste programmata per il prossimo 4 gennaio. Nelle ultime ore si rincorrono le indiscrezioni che vorrebbero i lupi sulle tracce di due terzini e entrambi i destri con capacità di giocare anche a sinistra. Il primo nome nuovo e caldo è quello dell'esperto Francesco Pisano, classe 1986, una vita a Cagliari prima nel trasferimento in estate al Bolton. Il secondo identikit è quello di Raffaele Pucino, classe 1991, di proprietà del Chievo ed in prestito alla Virtus Lanciano. Si vedrà intanto questa mattina, in occasione della ripresa degli allenamenti, finalmente l'ago della bilancia delle notizie negative e positive e peso dalla parte di queste ultime. Lavoro defaticante per chi ha giocato ieri a Como, mentre il resto della squadra ha svolto una partitella a ranghi misti a campo ridotto, alla quale ha partecipato regolarmente anche Rea. Poi altre tre liete notizie sono rientrati in gruppo svolgendo lavoro ridotto. Biraschi, Zito e Visconti con quest'ultimo che domani si sottoporrà a visita e radiografia di controllo alla mano sinistra. Unico neo, indisponibile Mokulu, questa sera alle 21, ospite di derby su 8 Channel. Il Belga è alle prese con un problema la caviglia sinistra da valutare nella giornata di domani attraverso esami strumentali, terapie per Tavano, domani pomeriggio, allenamento di rifinitura a porte chiuse al Partenio Lombardi.